Intanto partiamo dalla considerazione che siamo uno dei pochi sistemi universalistici rimasti nel mondo e i risultati che abbiamo secondo tutte le classifiche, degli indicatori di salute importanti ci danno tra i primi servizi nel mondo. A noi piace molto sempre fare dei provvedimenti e quindi lavorare sulla struttura, io credo che sia più importante lavorare cercando di modificare la cultura dei medici in particolare cercando di responsabilizzarli anche sull'utilizzo delle risorse perché se vogliamo mantenere un servizio nazionale, universale abbiamo bisogno di fare con quello che abbiamo e non è una diminuzione per i medici occuparsi anche di appropriatezza. Certo che li dobbiamo coinvolgere di più, penso che nella nostra regione i modelli sono più di uno, ci sono unificazioni, ci sono modalità differenti, ci sono grandi aziende, ci sono piccole aziende. Sicuramente in genere credo che i risultati migliori ci siano quando vengono dalle comunità e quindi quando le conferenze decidono, i sindaci decidono di mettersi insieme, di solito questa è una buona garanzia perché le cose funzionino, quando le trasformazioni sono callate dall'alto in genere hanno più problemi perché è difficile far passare delle modifiche anche quando sono buone se non c'è condivisione da parte dei professionisti, da parte delle comunità. A proposito dei medici, quelli di famiglia stanno premendo per il rinnovo della loro convenzione, può essere un'occasione per riuscire finalmente a farli lavorare in rete e quindi a migliorare il livello dei nostri servizi territoriali? Questo dipende in buona parte dai medici di famiglia, in larga parte dipende dall'atteggiamento delle regioni e quindi sostanzialmente si tratta di creare le condizioni perché gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale siano condivisi da quelli che non sono dipendenti del Servizio Sanitario ma sono professionisti autonomi e che quindi lavorano in buona parte attraverso un'autonomia che i medici dipendenti certamente non hanno perché lavorano all'interno delle strutture, delle aziende e dei servizi. E quindi se riusciremo a trovare questo accordo che non sia un accordo in riduzione, quindi non un minimo comune denominatore ma un massimo comune denominatore, allora avremo un'occasione sfruttata. Se invece faremo un accordo sostanzialmente perché ci interessa la pace sociale sarà un'occasione sprecata e purtroppo passeranno altri anni senza riuscire a modificare una situazione che invece deve essere qualitativamente migliore in particolare per i cittadini.